Siamo qui con Marco Miglioli, il baffo di Cremona, ormai conosciuto per una cosa, il suo spirito positivo, nel senso che in un momento di forte crisi, di forte depressione, come quello che stiamo affrontando, lui riesce sempre a reinventarsi, ma non solo per se stesso, ma per supportare anche le altre attività, attività che molte volte vediamo anche in questi periodi combattere tra di loro, mentre invece bisognerebbe essere tutti coesi, uniti, perché l'obiettivo poi è uno solo per tutti, riuscire a emergere da questa situazione. Marco, dici un attimino quali sono state le tue nuove grandi invenzioni. Allora, appunto perché il fulcro del discorso è aiutarci tutti tra di noi e non farci la guerra dei poveri in questo caso, è quello di aiutarsi, ossia faccio comunque delle dirette sui social per aiutare in collegamento con tutte le altre attività di merceologica diversa, ecco, per confrontarci, darci una mano, aiutarci in questo periodo critico per noi. In più, ho nato questo reality che ho chiamato il grande decreto, che appunto per i motivi che già sappiamo tutti, per comunque sensibilizzare anche le altre persone che non hanno un'attività e mostrargli come si gestisce un'attività in zona rossa, c'è le varie preoccupazioni, i fornitori, la gente che comunque non entra e a livello psicologico siamo anche abbattuti, per quello oltre al problema economico c'è anche il problema psicologico, perché noi non avendo il contatto con la gente è quello che ci dà anche energia, penso un po' a tutti. Stai sfruttando anche un po' quello che è la tua popolarità per dar voce anche agli altri, gli altri imprenditori, le altre attività che comunque in questo momento sono in difficoltà. Sì esatto, infatti mi collego con le altre attività, le pubblicizzo, gli do una mano a farsi conoscere, magari i miei clienti possono andare a comprare la pizza in una determinata pizzeria e viceversa i clienti della pizzeria possono venire a comprare da me, facciamo una sorta di rete di imprenditori che si danno una mano pubblicizzando le loro attività e tutto questo a costo zero, perché se aspettiamo comunque gli aiuti del governo che comunque sono stati lemosina per noi. Inoltre Marco collabora attivamente con gli altri imprenditori locali anche nel delivery, di fatti possiamo vederlo sfrecciare a bordo del maggiolino appartenenti ad una nota pizzeria della città, non passando di certo inosservato. Signora, è arrivata la sua costugna!